Nessun aumento dei tributi e delle tariffe, riduzione del costo della mensa scolastica e investimenti per oltre 46 milioni di euro con un'attenzione particolare alle scuole, alla riqualificazione urbana e al sociale. Ecco in sintesi il bilancio di previsione 2016 del Comune di Prato che per la prima volta dopo tanti anni è stato presentato perfettamente nei tempi. L'approvazione da parte del Consiglio Comunale è prevista tra dicembre e gennaio. Perché questo permetterà all'ente di avere le risorse e di iniziare a lavorare immediatamente dal 1 di gennaio, meglio ancora dal 2 di gennaio. Veniamo alle entrate correnti che ammontano oltre 200 milioni di euro. Dal Limo arriveranno 38 milioni di euro, dalla Tari 46, dall'addizionale IRPEF oltre 11 milioni, mentre i trasferimenti dallo Stato supereranno i 17 milioni di euro. Le aliquote resteranno invariate, non ci sarà quindi nessun aumento delle tasse. La Giunta Bifoni punta molto sul recupero dell'evasione fiscale che per il 2016 ha incrementato di 800 mila euro, arrivando a prevedere un'entrata di 6 milioni e mezzo di euro. Previsioni che saranno incrementate negli anni successivi con l'obiettivo di arrivare a recuperare 8 milioni nel 2018. Si prevede inoltre di incassare più molte, la previsione di 14 milioni di euro, formulata sulla base di quanto incassato nel 2015 grazie ai varchi e ai maggiori controlli. Restano invariate anche le tariffe per i servizi a domanda individuale, fatta eccezione per la mensa, che scenderà di prezzo per tutte le fasce di reddito, anche quelle più alte. Anche chi pagava la cifra più alta, 4,50, pagherà adesso 4,30 e alcune fasce, quelle più alte, che avevano anche un aumento considerevole, l'aumento in pratica viene grossomodo dimezzato per tutti. I 46 milioni di euro di investimenti sono destinati soprattutto all'ampliamento di scuole, impianti sportivi, all'ampliamento del Museo Pecce, alla realizzazione del parco urbano nell'ex ospedale e alla riqualificazione degli edifici comunali.